Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, code a tratti in entrambe le direzioni tra Pontassieve e Rufina. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Pisa Nord per lavori. Sulla A11 a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, la strada è chiusa nel comune di Borgo a Mozzano a causa dei danni causati dal maltempo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!